Ragazzi sono rientrato, sono rientrato anche oggi, scelto, sono rientrato, buongiorno, sono tornato, sono tornato, ciao, ciao, bentornato, eci di nuovo? No, proprio che accoglienze calorose, belle, quando c'è caldo, c'è fritto, e accoglienze freddo-rosse, ma, volevo sapere come è finita, con la salsiccia, ma che è daresi veramente? Ma puttavo, me l'hanno andata, domicilio, vediamo, è gentilissimo, ma che è la macelleria quella nuova di ieri, vediamo, questa è la salsiccia col finocchietto, mi ha detto che a lei ci piace, bella, scelto, grazie, è gentilissimo, scelto, per me, E questa dice ve l'ha mangiata insieme a Rauch, sventurato? Ah, perché mi conosce a me, scelto, dei video, ma sta gocciolando tutto, che meraviglia, vediamo, ma è con dita questa? Sì, no, senza dita, cioè, non è semplice, ma quanto è pagata, amore, quanto è pagata? Niente, me l'avevo mangiata, mi disse, con tanta salute, Ah, così? La macciazza mia, ma così faccio questi fallini, manco tempo di rapido, pureggio, sì, va bene, che c'entrano, ci vanno tutti a comprare, ci vanno tutti, Sì, ma vabbè, vabbè, saluta intanto, va, saluta, ciao ragazzi, saluta ragazzi, ah, piccolo spoiler, tra poco, one pacco, two pacco, due pacchi, a tra poco apriremo questi, di chi saranno, scelto, non si sa, vabbè, comunque, a dopo.